Ingredienti Dosi per 4 persone 750 grammi di gnocchi di patate 150 grammi di formaggio a fette 5 cucchiai di panna 4 cucchiai di grana grattugiato Burro e sale Preparazione Cuocere gli gnocchi in abbondante acqua salata Quando vengono a galla scolarli e metterli in una pirofila da forno imborrata Cospargere con il grana Versare la panna e coprire con le fette di formaggio Mettere in forno per circa 5 minuti e servire caldi Il piatto è pronto Buon appetito!